Vi aspettiamo alla quarta di Scheggino. Io sono Francesca e da tanti anni lavoro un seme di palma tropicale e questo è il mio materiale. Lui è riconosciuto come un avorio di origine vegetale e poi diciamo con cui io maggiormente realizzo monili o gettistica per la casa. Il mio laboratorio è una falegnameria e sono qua aspettandovi di conoscervi. Buona giornata! Grazie!